Sono centinaia le persone che sono scese in piazza oggi a Parma in difesa di chi non ha voce. Hanno nomi come Alan e Larry e sono i macachi rinchiusi negli stabulari dell'università utilizzati per sperimentare il progetto Light Up sulla corteccia visiva dei primati. Gli animali saranno accecati per poi, dopo qualche anno di atroci sofferenze, essere uccisi. Qui a Parma parliamo di un progetto Light Up che va a ledere il cervello del macachi creando una cecità corticale con dei lunghi training, quindi con tensioni forzate per tante ore al giorno di questi animali al termine del quale, ricordo, sono cinque anni e ci sarà la soppressione, quindi gli animali verranno uccisi. Noi abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere, abbiamo una petizione aperta su Change, invito tutte le persone a guardare il nostro sito, alla pagina Ci vediamo liberi della LAV dove possono aderire alla petizione e conoscere la campagna perché è importante informarsi e continuiamo a chiedere al Ministro di liberare questi animali e chiaramente tutta la nostra associazione, le sigle che oggi sono presenti, i cittadini, possono abbracciare questa campagna e chiaramente tutto quello che è dietro il mondo della sperimentazione animale perché questo è uno dei tanti progetti che avvengono in Italia, chiaramente non l'unico. In questi due anni sono state molte le azioni messe in campo a loro difesa. La doccia fredda è arrivata con la decisione del Consiglio di Stato che ha dato il via libera a questi esperimenti lo scorso gennaio ma che non ha fermato la battaglia animalista. Come LAV abbiamo avuto un iter giudiziario lungo due anni che ha visto la vincita per due volte, la sospensione dell'esperimento per sette mesi in tutto, la prima volta nel mondo che siamo riusciti a bloccare, a sospendere quindi per dei mesi l'esperimento ma purtroppo l'udienza finale al Consiglio di Stato non ci ha visto vittoriosi se non per un punto legato al benessere e quindi gli animali sono stati risottoposti a sperimentazioni. Abbiamo detto che non molleremo mai e continueremo a farlo. Questa non è scienza ma parliamo di sperimentazioni che non hanno un'utilità per l'uomo.